il titolo della diretta di questa sera era una riflessione che volevo condividere con voi cambia tutto cambia niente perché ho fatto un video giorni fa del fatto che non so se l'avete visto il video con l'ipad dove ero muto in cui insomma riflettevo sul fatto che spero che non cambi che cambi tutto quando poi si ripartirà perché non è che si stava poi benissimo prima e quindi c'è qualcuno che invece commentava dicendo che non cambierà nulla non è cambiato nulla e certe persone che sono ipocrite continueranno a essere ipocrite se non peggio e proprio su quel se non peggio che mi vado ad agganciare per la diretta di questa sera e al di là del titolo secondo me già qualcosa cambia perché per esempio il mio modo di lavorare adesso sta sta cambiando e se voglio lavorare se voglio anche mantenermi in contatto con i miei clienti devo devo fare qualcosa cioè non posso pretendere dato che io faccio i corsi in aula con le persone non posso pretendere che questa cosa dato che non si può fare non posso pretendere nulla di diverso devo devo cambiare io adattarmi io ecco se vogliamo usare una parola più bella adattarmi migliorarmi insomma ecco perché a qualcuno magari la parola cambiamento fa paura perché magari si focalizza solo sui lati negativi del cambiamento e quindi fra dirette webinar con le aziende oggi ho avuto un webinar prove del webinar di stasera che devo fare con l'amico andrea bordin prove della diretta che devo fare domani anzi vi invito a seguirmi sulla pagina facebook di italia love sicurezza perché alle ore 16 sarà una bella diretta con tanti anche ospiti parleremo di salute sicurezza e quindi abbiamo fatto un po di prove e poi ci sarà ancora prima le tre su instagram però sulla pagina della rivista star bene dove ogni tanto c'è qualche mio articolo qualche intervista e quindi domani parleremo di tante tante domande che sono venute alle persone i lettori lettrici della rivista in questo periodo insomma di quarantena che poi non è una quarantena per tutti insomma dobbiamo stare in casa ma non è proprio una quarantena quindi la riflessione è ma cambia tutto o non cambia niente in questo periodo secondo voi secondo le persone che sono collegate 270 milioni di persone collegate secondo voi cambia tutto cambia niente cioè questo coronavirus sta cambiando alcune cose o sostanzialmente alla fine sì c'è stato un momento iniziale in cui si dicevano tante belle cose puoi utilizzare il tempo diversamente puoi fare questo quest'altro e poi alla fine ti ritrovi che è sempre la solita storia e quindi che magari subiamo le situazioni non le riusciamo ad affrontare ciao rosita vai a fare le pizze ok buonasera a tutti federica qualcuno potrebbe condividere con noi il suo pensiero se questa situazione effettivamente sta cambiando qualcosa in noi il nostro modo di vivere di affrontare la vita oppure sostanzialmente non cambia niente chi è chi c'è c'è e chi rimane rimane insomma ciao tenezzo domenica con la mia azienda perfetto grande maria lisa sta cambiando il nostro stile di vita sì qualcuno dice cioè allora ci sono quelli che dicono non sta cambiando niente le persone sono sempre uguali restano sempre uguali e dipende su che su che fetta di realtà ti focalizzi perché il nostro cervello non può focalizzarsi sulla realtà in generale anche perché non è che conosci tutti i miliardi di persone che vivono quindi dire a sono le persone ipocrite sono quelle che sono ipocrite ma non sono tutte ipocrite e magari quelle ipocrite magari non sanno neanche di esserlo oppure magari se ne sono rese conto e stanno cercando di lavorare quindi non possiamo dire che che non possiamo generalizzare non ha senso generalizzare e quindi a maggior ragione su quale realtà ci conviene focalizzarci e qualcuno dice cambia tutto il modo di vedere la vita le coscienze le conoscenze sì dipende sempre da da noi comunque cioè questa situazione così come altre situazioni sono solo degli amplificatori degli amplificatori di quello che già siamo di quello che già facciamo di quello che già quello che siamo abituati a fare e a come siamo abituati a reagire a certe situazioni cioè perché un amplificatore questa situazione del coronavirus così come un amplificatore ad esempio il denaro così come un amplificatore anche certe sostanze alcolici perché sono degli amplificatori perché se una persona è molto aggressiva in questo momento che devi stare tante ore in casa sarà più o meno aggressiva sarà più aggressiva se una persona beve alcol ed è già aggressiva sarà più o meno aggressiva sarà più più aggressiva una volta in un corso di formazione ho sentito questa bellissima immagine che fa capire non è che è bellissima che chiarisce ancora di più questo concetto e che come questa situazione il coronavirus così come altre altre cose come il denaro diciamo prima o gli alcolici troppi alcolici o certe sostanze anche tossiche cioè sono come dare un microfono a una persona che dice cose intelligenti se tu dici sai un microfono a una persona che dice cose intelligenti questo la sua capacità di dire cose intelligenti viene solo amplificata quindi arriva più persone così come se dai un microfono lo stesso microfono quindi la stessa cosa a una persona che dice sono sciocchezze o è molto maleducata o molto aggressiva molto violenta sarà solo più aggressiva più violenta e questa sua violenza questa magari sua maleducazione o le sue idiozie arriveranno a molte più persone quindi cosa vuol dire che questa situazione non è la situazione che ci cambia e non è il denaro che mi cambia perché il denaro amplifica quello che sono quello che sono abituato a fare se io sono abituato a sprecare soldi quando avrò più soldi ne sprecherò ancora di più se io sono abituato a mettere da parte dei soldi e darli in beneficenza se io ne ho di più è ovvio che se io sono abituato a donare anche agli altri ne darò di più quindi è la conseguenza ok allora cosa vuol dire se non sono le situazioni o le cose che ci cambiano vuol dire che siamo noi a poter decidere di cambiare o no perché noi abbiamo comunque la scelta abbiamo la scelta di continuare a fare le solite cose e non renderci conto che magari questa situazione sta amplificando alcune nostre zone di miglioramento se io mi rendo conto che non so gestire l'ansia o la paura di questo momento il coronavirus mi sta solo amplificando le mie ansie quindi io quella cosa lì non è che se scompare il coronavirus scompare la mia incapacità di gestire certe emozioni non so se è chiaro questo questo concetto perché se noi vogliamo vivere bene vivere sereni vive felici questo passa anche il renderci conto prendere con se polezza di alcune aree di miglioramento e quindi il coronavirus sta mettendo in risalto sia le cose negative sia le cose positive e allora ha senso renderci conto utilizzare questa situazione per rendersi conto di che cosa si sta amplificando che potrebbe essere migliorato quindi samantha mi dice vedi che c'è sempre il tuo il tuo quadretto qua dietro samantha so se si vede e samantha dice che è chiaro ok quindi allora se questa situazione come le situazioni della vita che dobbiamo vivere sono solo degli amplificatori di quello che che siamo e quello che sta amplificando non ci piace oppure non ci serve in questo momento perché se io sono ancora più ansioso se sono ancora più pauroso sono ancora più arrabbiato questa cosa mi serve non mi serve mi sta aiutando non mi sta aiutando non mi sta aiutando altrimenti le cose cambierebbero se mi stesse aiutando no quindi vuol dire che devo riconoscere qual è la mia area di miglioramento con tutta l'umiltà che ci vuole in questi casi perché è molto facile dire colpa degli altri colpa di quello che non fa quello che dovrebbe fare o non fare questa è la cosa più facile che c'è sta di fatto che le cose facili a volte hanno un valore tante volte mi rendo conto che magari anche regali qualcosa e viene se lo fai pagare sembra che valga di più il fatto è che non sempre non sempre quello che quello che regaliamo quello che è facile ha un valore enorme quindi piuttosto riuscire a rendere facile qualcosa che è molto difficile ha un valore maggiore allora la chiusa di questa di questa diretta di questa riflessione con voi è che sta a noi sta a noi cercare di cambiare e una persona cambia in genere quando c'è una paura più grande che la spinge a vincere le proprie paure e a cambiare il problema è che non basta avere una paura più grande per spingerti a vincere le tue paure perché a volte cosa succede che quella paura magari col tempo quella paura più grande la percepisco in modo diverso e quindi torno ad avere paura delle mie vecchie paure quindi torno indietro quindi magari quella paura più grande cioè la paura magari veramente di rimanere senza un soldo di rimanere c'è un'immagine che a me ogni tanto mi aiuta anche a smuovermi a sbloccarmi cioè il fatto di vedermi io in fila a chiedere le lemosina magari alla caritas insieme a altre migliaia di persone a un certo punto arriva fuori la persona che dice è finito tutto non c'è più niente da mangiare e quindi anche quel giorno sono a digiuno e con i crampi della fame allora quell'immagine lì mi dice è una paura molto forte che mi fa smuovere però non basta con la paura perché magari oggi ho quella paura domani quella paura non ha più valore per me quindi ci vuole ok che ci vuole qualcosa che ti spinge cioè chiederti che cosa perdo che coste e conseguenze ha non fare nulla essere in attesa essere fermo e dall'altra parte occorre anche avere come si dice le leve del cambiamento una leva piacere cioè cominciare magari a fare qualcosa di piccolo e imitare ogni giorno qualcuno che già quella cosa la fa già quella cosa la sta facendo già quella paura l'ha vinta e ogni giorno un piccolo pezzettino ogni giorno imito un po' prendo spunto cerco di assorbire l'energia positiva di qualcuno che magari ha un approccio migliore nella gestione del tempo magari ha un approccio migliore nella gestione della salute magari ha un approccio migliore nella gestione delle relazioni della comunicazione interpersonale cioè qualcosa di piccolo che faccio ogni giorno questo è quello che mi fa veramente cambiare quindi il coronavirus potrebbe cambiare tutto come non cambiare niente perché è un amplificatore di quello che già sei e quello che già fai ma sta a noi decidere se lasciare tutto così e quindi prenderci poi la responsabilità non dico le colpe di tutto quello che mi può venire oppure cercare di cambiare e quindi cercare di fare quel piccolo passo ogni giorno di miglioramento partendo magari da rendersi conto di che cosa questo coronavirus sta amplificando nel mio modo di reagire nel mio modo di comportarmi nel mio modo di gestire nel mio modo di pensare se quello che sta amplificando non mi piace cerco di migliorarlo bene mi auguro che questa riflessione con questa magari anche applicazione di provare a fare qualcosa ti sia utile tenetevi in contatto con questa pagina perché tra pochi giorni metterò il link per la lezione gratuita su come resistere e andare avanti con intelligenza positiva in tempo di coronavirus e intanto nel frattempo se ancora non l'hai visto le 4 lezioni gratuite sulla gestione dello stress andando sul sito felicemente stressati.it buona serata buona cena e alla prossima saluti ridenti